Presente l'operate, cercate di essere sempre presenti sul territorio anche a Natale quest'anno con questo evento solitale che si svolgerà a martedì al Politea, ma ci spieghi di cosa si tratta? Sì, nonostante il disagio che viviamo continuamente sul nostro territorio di non avere una sede adeguata per svolgere le attività, noi comunque siamo sempre presenti. Sì, abbiamo pensato di organizzare un evento straordinario, regalare questo momento a tutta la cittadinanza di Catanzaro e provincia ed è un evento straordinario dove cerchiamo di abbattere il pregiudizio e il muro dell'indifferenza attraverso l'arte, attraverso la cultura, le professionalità di solo artisti non vedenti. Lamentate spesso l'indifferenza da parte delle istituzioni? Ma non solo le istituzioni, anche un po' la cittadinanza perché molte volte il problema lo si sente proprio solo se è proprio e allora in una comunità che sia sana, che voglia crescere, che voglia pensare al domani dei propri figli, io penso che è importante guardarsi intorno ed essere propensi verso il prossimo. Quindi anche azioni di solidarietà non farle lì dove è più facile, ma farle comunque e dovunque. E in questo momento noi abbiamo bisogno anche della solidarietà della cittadinanza perché aiuta comunque a svolgere delle azioni all'Unione Cechi e cerca ancora di portare avanti quello che è il disegno della inclusione sociale, dell'integrazione scolastica, ma quello che importa di più è proprio l'inclusione anche lavorativa. Per fare questo ci sono dei percorsi necessari per un cieco e un ipovedente, ma soprattutto non vanno dimenticati i pluriminorati, soggetti che oltre al problema e alla mancanza della vista hanno altre minorazioni aggiuntive. Grazie.